Le tre di notte E io sono qua con Ryan a giocare a questo gioco Vai andiamo Sì questa non è una delle nostre migliori idee Esatto Dovremmo rivalutare le nostre idee Ho detto Ryan perché non andiamo a giocare adesso a Pop E lui ma sei serio? Sì Ragazzi mi raccomando lasciate già in questo momento tanti like Se volete il continuo di questo gioco Perché Già sto avendo paura Ah questo è il gioco È il gioco quello tipo negli anni 80 Ma ti giuro ma davvero si stava un gioco del genere Cioè lei è stata Sì 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 La lore racconta che C'era veramente un gioco simile Aspetta silenzio Sì guarda Sono l'unica a parlare Senti Wake up Ti dice lei Svegliati Ryan svegliati No non voglio svegliarmi no Cosa ti dice Mamma mia Mamma mia che cosa sono Mamma mia Cosa è bruttissima Ryan che paura Oh 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 Backrooms Non lo so così Sembrava un video delle backrooms quello Ryan Ryan I capezzolini torcinini Oh meglio ma lo vedi tu Lo vedi? Sì lo vedi Sì sì Cosa? Io lo vedo Lo vedi che parte Te lo faccio E poppy ma tu vedi quello che sto vedendo io Vedo quello che stai vedendo tu Sei sicuro di che stai vedendo quello che sto vedendo io? Purtroppo sì Purtroppo sì Ma sei proprio sicuro? Sì sicurissimo Allora siamo rimasti allo stesso punto di prima Ovvero alla fine Ricordi? Oh sì la fine dell'inizio L'inizio della fine Oh la fine dell'inizio L'inizio della fine Dai vedo almeno che il frame rate l'hanno aggiustato E non si sta bloccando finalmente Andiamo avanti comunque ragazzi Guardate che bella questa casetta E prima come l'avevamo lasciata Non mi piace Non mi piace Questo armadio era messo dritto Me lo ricordo molto bene Sto aprendo questa porta Vediamo un po' che cosa c'è Questa Oh mamma mia Ryan questa parte non c'era Io sto tremando bro 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 Ryan guarda Non si può andare da quella parte È l'unica via È l'unica via Guarda c'è c'è il dinosaur rosso e knuckles Knuckles rosso dinosaur E qua c'è Sonic Sonic guarda sono uguali È incredibile Non proprio Mi sa che sbaglio qualcosa Forse abbiamo sbagliato il gioco Ok qua non si può entrare Va bene perfetto Si deve andare avanti È perfetto Non bel niente Però va bene Oh silenzio Zitto Hai sentito? Sì Ho sentito Hai sentito Io l'ho sentito Però Ok E beh no È passata Mommy qua Mommy si prende I giocattoli degli A Qua c'è un hobby di Roblox Qua davanti Aspetta Elliot Ludwig Ah ah Elliot Ludwig Era il direttore Della fabbrica Di Poppy Playtime Io la loro l'ho studiata ragazzi Meno male che è chiusa Meno male Ora c'è un easter egg Che se premi più di cento volte La porta si apre Farci un jumpscare Immagini Rimaniamo qui fino a domani mattina Ok vabbè andiamo Immagina se veramente così Ok sì Questo Siamo forti Noi siamo forti Noi siamo per rezzetta bro Che noi noi non ci fanno Posa queste cose Che dovevano fare Però comunque Aspetta aspetta Ma mi sa che devo ritornare indietro Sai mi hai fatto paura con quella ma pure devo fare così e devo arrampicarmi e devo fare giurassic world ci sono arrivato veramente in poco tempo è la prima parte del gioco mi sembra mio ragazzi non ho visto niente da nessuno è devo staccare questi assi di legno alla testa con il pipino oppure devo spostare queste casse chi sa proprio che devo spostare queste casse tu ci sei visto il mio video della lore nel mio secondo canale che mi invito tutti quanti ad andarlo a vedere onestamente no però lo andrò a vedere dovresti andarlo a vedere ho una chiave con un fiorellino mamma mia mi sento veramente carina devi tornare all'inizio mi so sì però mi sa proprio di sì secondo me adesso qua c'è qualcosa sicuro è tipo classico di questi giochi che ogni volta che torni indietro c'è qualcosa che cambia è vero perché non te l'aspetti tipo qualcosa tipo un che compare da qualche parte oh mio dio ma guarda che brutto il fatto che tipo lì in fondo è così tanto in fondo effettivamente molto bene ok il suono della porta sembrava quando ride trucco ho una videocassetta posso prenderla oh perfetto cosa ho preso i soldi tutto bene ah posso mettere la videocassetta adesso in theory oh eccola qua ragazzi lore lore bisogna scrivere bisogna scrivere tutto è l'or questa va bene andiamo avanti poi ce lo raccontiamo insieme tutto questo ragazzo va bene vieni con me vieni con me stai zitto vedete mandare via dai ora ci di nuovo a ghiwugi no non voglio che brutto mamma mia mamma mia mamma mia ho paura di buttare un urla che ci sono i miei laddentro che dormono allora ciao che carina è poppy è poppy pippi è poppy playtime aspetta ma è andata in faccia è andata in faccia così a gratis che devo fare qua devo devo tipo attivare questo collega collega cosa quello con quello di poppy ah ok no ok mi sa che devo fare qualcosa del genere esatto ah devo unirli ok così e poi così dai 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 perfetto mamma mia grazie mi sta facendo i complimenti l'abbiamo liberata è da tanto tempo bloccata qua oh capito noi l'abbiamo liberata adesso lei vuole ricambiare il favore oh che significa coca cola lo spero che bello o sì certamente arrivo cara non puoi tirare a quanto pare eccola guarda com'è animata bene scomparsa ragazzi è scomparsa hai visto è scomparsa ah ok ora faccio così è così ma c'erano queste cose prima no what the fuck forse le ha accese lei sono morto non sono morto incredibile incredibile questo è perché gioco tanto al parkour di minecraft lì non dovrebbe spuntare poppy potrebbe poppy stai cantando te poppy un po di lag si ci sono cagato sotto devo buttarmi il buco tipo troppo in cina un dropper un dropper però devo schivare no non sono morto questo oddio oddio warball interstellar cina siamo in cina palese adesso ragazzi l'importante è mantenere il sangue caldo dai mamma mia è semplice questa cosa ogni volta dovremmo tenerlo freddo no 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 è impossibile attaccare lo stesso momento eh no devi toccare entrambe le bobine no ma stai scherzando visto è incredibile rion è incredibile quindi eccolo e ora è modo di trovare modo forse devi tornare indietro sì 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 no vabbè mamma mia mille chiù mille chiù mille chiù ragazzi mille chiù io volevo andare possiamo andare possiamo andare possiamo andare possiamo andare cosa c'è cosa c'è cosa c'è tutto bene oh no 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 oh mio dio quanto sei bella no poppy oh mio dio 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 non ho certo io lo sapevo comunque che poppy ci avrebbe aiutato poverina guarda come si gira attorno ma è stra animata bene sì sì vabbè cancer the mob oh mio dio capo quanto si allunga Va bene capito Vuole mangiare le mie interiora Mentre io sto in vita Oddio qua dobbiamo cercare la Secondo me qua c'è qualcosa di strano Guarda lì c'è Mommy Che tipo sta giocando con i bambini Oddio è vero Questo qui è un gioco vecchissimo Che si chiama Lo scopo del gioco è trovare un personaggio in particolare Sì 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 me lo ricordo Però non credo che sia questo Adesso quello che devo fare io in questo momento Oddio guarda ci sono tutti i giochi C'è pure chissimi sì Tutti Va bene Oddio ma è gigante Questo posto No 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 è troppo grande Press here Cosa dietro Destra fermo fermo Destra Avanti press here Dove? Destra Lì c'è il cartellone Ok Forse sarebbe stato meglio non farlo Andiamo a dire Andiamo a dire Allora 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 quindi questo è un treno Veramente carino Che faccia andiamo Ah no però ci serve la mano verde Verde Eh sì Ma questo qua mi dice che posso forse attivarlo Vediamo Verde Ciao bambini Benvenuti nella stazione dei giochi Certo che è bellissimo questo posto Guarda qua Mi ricorda troppo Mi sa che ho trovato un collezionabile Mi ricorda sai cosa mi ricorda Un sacco E Naff E Mega pizza Plex La zona del Andiamo 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 Dai Andiamo andiamo Oh lì 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 Mi Mi Mesica Vedi quella roba illuminata Dici che devo andare lì Musical memory Per forza Sì 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 Beh illuminata effettivamente Dove c'è luce È buono Pure invisibile Ah no L'ho provato No ho sbagliato No ho sbagliato Mi dispiace C'è qualcuno? Piccolo lag Caricando i modelli Cosa accade Piccolo lag Oh significa che Si è attivato qualcosa eh Oh Attiviamo La leva Luce Oddio un'altra Macchina generatrice Di giocattoli Oh Videocassetta Videocassetta Che l'ho presa Posso premerlo? Ok Ok Pisciamo Ah no Ok Sono delle palle Delle palle bianche Ma quelle di Ryan Che ha le palline a casa Bianche Oh sì Per giocare a bingo Gli vedo A fine settimana Aspetta Sono diventate fluido No Ma devo fare così? Oddio che schifo è Che schifo Ah no Devo metterlo bene Forse Ecco qua Ok perfetto Andiamo avanti Ottimo E Bob L'ha giusta tutto Cioè Ciaone proprio Da youtuber a Bob Un attimo Sbrob mi chiamo Ok Ah mi sta creando una mano Capito È un generatore di mani Che figo Sembra tipo come cuociono il pollo E' uguale il forno Sì sì Vediamo Allora C'è qualcosa Per favore Come sentiva Oh eccolo Quello che mi serve Facciamo così Devo buttarlo qua Ok perfetto Ok perfetto Ottimo Mi lascio male Ok perfetto Ah ma mia Ho speedrunner comunque Ok E si va avanti Ancora Vabbè me li sta generando Pian pianino Devo fare altro E l'altro che cos'è l'altro Che cosa significa questo In scatolamento In scatolamento Oh manina 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 Batti 5 Batti 5 Batti 5 Batti 5 Batti 5 Tutti 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 quanti Tutti quanti Devo prenderla Ah sì ok Perfetto Ok Quindi adesso Faccio così Faccio così No Cosa dovrei fare No way No way Bellissimo Ok 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 Ragazzi Io continuo In un altro video Ci vediamo nel prossimo Ciao Ciao Ciao